Per il rinnovo delle carte d'identità o per il rilascio di altri certificati autentiche o cambi di residenza bisogna recarsi all'unità periferica di Palazzo di Città in via Roma-Salerno o presso la sede dei servizi demografici ed elettorali in via Piccarielli. E quanto viene consigliato ai cittadini salernitani che ormai da due mesi ignari della chiusura si stanno rivolgendo agli uffici anagrefe di Stato Civile di Mariconda, Fratte e Zona Vestuti. Seppur le comunicazioni affisse all'ingresso delle rispettive sedi dichiarano diversi motivi legati alla chiusura nello specifico Mariconda in via Tanagro è attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione l'unità periferica anagrafe Vestuti via Nizza angolo di via Paolo de Granita è chiusa per motivi tecnici così come l'ufficio di Fratte di via Nicola Buonservizi. Tre uffici chiusi ormai da oltre due mesi che oltre a lasciare aperti diversi interrogativi se davvero siano chiusi per motivi dichiarati o se si profila una soppressione delle sedi creano disagio ai cittadini, soprattutto quelli più anziani o in difficoltà per muoversi liberamente da una parte all'altra della città. La sopprimono è proprio una brutta cosa perché uno sta nella zona, bene, fa un attimo quello che deve fare certificati, attestati eccetera e basta, ma andare girando di qua e di là adesso che, tanto per dire, io non sto guidando più, andare per esempio a Pasta è nato il rione. Si è vero, ha creato molti disservizi e molti problemi a tutti il rione. L'ho sentito, ma comunque non so, diciamo, dalla gente se si sono lamentati o meno, questo non te lo so dire. Perché in pratica l'ufficio è chiuso e bisogna rivolgersi a Palazzo di Città. Esatto, è molto problematico sicuramente, la gente si deve muovere tanto fino laggiù. Si, perché ognuno ha bisogno di un documento, più vicino va è più comodo, è ovvio. Intanto c'è scritto che è chiuso per motivi tecnici dal mese di giugno. Non si sapranno sempre i motivi tecnici, quando ho detto motivi, è una cosa in generale. Infatti molti sostengono che addirittura sia stato soppresso per mancanza di personale. Questo non lo so, che là sono due o tre persone, poi non lo so poi che è successo, come facciamo a sapere, signor? Sì, signor, che è andato a fare a Palazzo di Città? Chi ne manca fa niente. Intanto l'ufficio Anagrafi qui è chiuso. No, io lo so che è chiuso, da ora lo so. Però per noi non vuoi. Adesso sapevo il sinico. Adesso se lei ha la necessità, per esempio, di fare una carta d'identità? È andata a parte. O mercatello, o passano. O Palazzo di Città? O comune nuovo, o comune vecchio. Lì c'è scritto che è chiuso per motivi tecnici, ma molti sostengono che è stato proprio chiuso. Ma è stato chiuso, non è l'Italia, è tutto bugia. Noi in Italia è tutto bugia, lì c'è. Pare che i dipendenti alcuni siano andati in pensione, quindi c'è carenza di personale. Siamo andati in pensione, da ora, è parecchio tempo. È un problema che deve risolvere il sindaco urgentemente, deve farlo molto presto e con molta tempestività. Perfetto. Grazie. 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 Grazie.